sono a taranto via dante continua la strage degli alberi l'abbattimento degli alberi qualcosa di vergognoso di osceno guardate voi è davvero un peccato vedere questi alberi abbattuti un'amministrazione che parla di ecosistema taranto parla di sostenibilità parla di rispetto dell'ambiente guardate un po guardate che peccato veramente far rabbia è uno schiaffo a in faccia a chi vuole a chi vuole un po di verde quel verde che ci aiuta a vivere guardate che scempio vedere questi alberi recisi questi tronchi ma scusate a chi davano fastidio questi alberi a nessuno non sollevavano certo la pavimentazione non sollevavano il manto stradale ma per fare che cosa poi per fare lo spartitraffico per fare la pista ciclabile si ammazzano si ammazzano gli alberi lo dico senza se e senza ma oltretutto si viola il regolamento comunale il regolamento comunale infatti impone nel momento in cui si abbattono degli alberi di sostituirli con la stessa tipologia quindi tu abbatti alberi di alto fusto e devi sostituirli con altrettanti alberi di alto fusto peraltro peraltro allocarli sistemarli nelle vicinanze non che mi metti cara amministrazione melucci quattro peri ornamentali guardate quattro arboscelli sul marciapiede in sostituzione di questi pini meravigliosi fantastici che non solo abbellivano via dante ma davano ossigeno e anche refrigerio no alle alle a chi passava da queste parti oltretutto avremo una pista ciclabile che praticamente sarà completamente assolata proprio perché non ci saranno più alberi bene questa signori cari è l'amministrazione melucci e mi fa rabbia ripeto che voglia definirsi un'amministrazione rispettosa dell'ambiente questa è un'amministrazione signori cari che calpesta che schiaffeggia l'ambiente non ho non ho parole non ho parole io sono per la difesa della vita in ogni sua forma e questa è una vita ripeto non davano fastidio a nessuno anzi anzi ci aiutavano a stare meglio ma l'amministrazione melucci ha voluto abbattere e cementificare di fatto cementificare perché è una pista ciclabile che va a calpestare a coprire ad ammazzare del verde a mio avviso è comunque una forma di cementificazione non si cementifica solo con con i palazzi anche in questo modo e quindi a questo punto cemento al posto del verde questa è la mia l'interpretazione l'espressione del mio pensiero la gente parla dice ci sono quattro alberi e li stanno buttando a terra vede vedete questa è la il sentiment il sentimento di rabbia che provano i cittadini l'amministrazione disastrosa io abbatterei politicamente melucci e i suoi cortigiani di maggioranza piuttosto che questi alberi è il caso che la città si si ribelli democraticamente e civilmente guardate queste immagini mi mi fanno schifo mi fanno solamente schifo e queste immagini fanno schifo ai tarantini vergognati melucci vergognati solo questo dico a te e alla tua amministrazione vergogna vergognati